A 5 tornate dal termine del campionato di Serie B, il Cesena del tecnico Fabrizio Castori ospita il Forosinone di Longo lanciato verso la Serie A. I bianconeri sono propositivi e tengono testa i ciociari, come all'undicesimo quando Schiavone in verticale pesca Cupisch. Lo stop è ottimo, la conclusione no. Dai piedi di Zalov la prima palla goal sul più bello in cespica, ma l'arrivo in corsa a rimorchio si divore il vantaggio, con Vigorito che si ritrova il pallone addosso e salva lo 0-0. Il Forosinone alza i giri con l'ex conè, dalla sinistra serve Dionisi che appoggia per Gori ma sfumano a buona occasione. Da calcio da fermo si fa vedere anche Schiavone, la sua parabola è però imprecisa al minuto 37. Prima del riposo c'è spazio anche per il colpo di testa alto di Scogna Miglio da corner di Laribi. La ripresa si apre poi con Zalov protagonista che scaldi guanti a Vigorito rifugiatosi in corner. Poi ecco l'episodio chiave, Cupisch viene atterrato dall'ex Craenz in area, rigore sacrosanto. Dal dischetto Laribi insacca il vantaggio, cancellando oltre un anno di astinenza di penalty. Longo corre il ripari con la massima trazione anteriore, ma solo al minuto 89 da corner, Citro colpisce il palo di testa. Solo al 97esimo i Bianconeri alzano le mani al cielo perché con questi tre punti escono dalla zona retrocessione portandosi a quota 42 e martedì c'è il Pescara nello scontro diretto Salvezza.